serve usare meglio quelli che già ci sono, serve far comunicare le banche dati che già ci sono in modo molto più intenso e questo è uno dei punti della stessa riforma fiscale. Emiliano Fittipaldi, ci sono già abbastanza dati in mano all'Agenzia delle Entrate, si tratta di ottimizzarli oppure c'è un problema di privacy che col redditometro scoppierebbe? Tra l'altro a ricordarci che siamo a tre settimane dalle elezioni europee, ci sono le reazioni, per esempio Tajani, il leader di Forza Italia, ha detto bene, Meloni ha accolto la nostra proposta e ha messo uno stop al redditometro. Che è una cosa che non si era mai visto, non ricordo un decreto ministeriale che è stato approvato in gazzetta da parte di un governo, perché se non sbaglio il viceministro Leo è di Fratelli d'Italia, non è di un altro partito. È di Fratelli d'Italia. Che dopo il casino che è accaduto il premier è costretto addirittura a fare un video su Instagram e per dire che no, ci siamo sbagliati. Quindi comunque è una figuraccia al netto della questione della partita elettorale che giustamente la Palmerini spiegava perfettamente. Lei è terrorizzata dal consenso, è terrorizzata a perdere anche un punto o due punti, al netto se il redditometro funzioni o non funzioni. Ma qui ci sono voti degli evasori questi? La so, però io sto dicendo questo, nel senso che perché la Meloni si precipita su Instagram a spiegarci che Leo ha fatto un errore clamoroso? A chi sta parlando? A chi ha qualcosa da nascondere? A chi veramente vogliamo pensare che il redditometro va a attaccare la privacy degli italiani perché individua il fatto che io regali il diamante da nulla tenente alla mia amante? È una sciocchezza. La lezione e il messaggio che Giorgia Meloni vuole dare ai suoi elettori che in parte sono anche evasori fiscali perché non sono dati miei, sono dati Banca Italia, sono dati dell'ultima relazione del MEF. L'IRP viene pagata all'80% dai dipendenti pubblici e dei dipendenti privati e dal 6% dai lavoratori privati e delle partite IVA, dal 6%, che vadono sempre nella stessa relazione dei tecnici di Giorgetti, non mia, quasi il 60% e il 70% di quello che dovrebbero pagare. Allora, questo pezzo di elettorato, che è un elettorato che da sempre parlava prima a Berlusconi, poi parlava, o meglio, chiedeva udienza alla Lega ed è infatti a Forza Italia, e Fratelli d'Italia non vuole perdere. Meloni è quella che un anno fa ha fatto una dichiarazione in Sicilia, secondo me gravissima, forse ce la stiamo scordando, dicendo che lo Stato che chiedeva l'evasione dei piccoli commercianti chiedeva il pizzo di Stato. In Sicilia, sì, in campagna elettorale. E' quella che ha chiesto di alzare la soglia del contante, dicendo che è una cosa che in tutti i paesi del mondo viene abbassata al limite proprio per bloccare l'evasione, invece, secondo Giorgia Meloni, bisognava alzarla. Abbiamo fatto un concordato preventivo viennale che, secondo i sindacati, è una sorta di legalizzazione dell'evasione. Addirittura i commercianti possono trattare, e anche le partite IVA possono trattare con questo governo, ebbè, così, i due anni quello che devono... Pacione non è tanto convinta. Non è contenta, non lo dico io, di quelli sindacati. No, non è, non sono contenta. Nel senso che... No, nel senso che...